Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Catapripacta. Io sono Roberto dell'Information Lab e oggi andremo a scoprire come importare i dati all'interno di questo software in cloud. Nel scorso video siamo partiti con una semplice ma concisa overview dell'interfaccia per introdurre un po' il mondo di Catapripacta, mentre oggi ci saremo dritti dentro con un po' di pratica, quindi allacciato alle cinture e si parca. Per prima cosa, una volta sulla home, se volevo importare qualsiasi tipo di dataset, andiamo qua in alto a destra e facciamo l'import dieta. Catapripacta ci farà scegliere un file, che potremo direttamente trascinarlo qui. Andrò sui miei download e andrò a prendere il mio sample di dati. All'interno di questo file, come vedremo appena si caricherà, giusto 30 secondi, potremo vedere che abbiamo tre foglie Excel. Un foglio, diciamo, con gli ordini. Abbiamo il nostro dataset principale con la nostra dimensione o migliore. Avremo un ulteriore foglio soltanto con il resi che ci dirà se un determinato ordine è stato riconsegnato oppure no. Infine avremo una tabella delle persone. che è il general manager. Eccoli qua. Possiamo anche fare una preview. In questo modo abbiamo una semplice vista alcune delle colonne del dataset e prima di salvarlo possiamo anche decidere di crearlo direttamente con i fogli separati oppure fare un union che unirà tutti i 3 i volumi oppure dirgli da qua in futuro tre volte più ottenerò questo file e tu uniscimolo e non chiederlo più. A noi fa bene partire con dataset separati e facciamo salva. Una volta che il nostro file è salvato facciamo continuare a basso a destra. E vedrete che qua ci mostrerà i nostri 3 data source. Una volta che ci ha salvato nella nostra libreria che abbiamo già visto la settimana scorsa possiamo fare import data se volessimo importare ulteriori dataset. Mentre noi possiamo partire con il nostro order. quindi ci dirà usa il nuovo flusso. Io farò ok. Ok. E come vedete ha appena creato questo nuovo dataset, il mio nuovo reset, a cui ovviamente possiamo fare numeri o ripose. Abbiamo la possibilità di rimpiazzare, standardizzare, fare strati, splittare. Però visto che noi siamo partiti con 3 dataset, vorrei mostrarvi come unirli nel caso vi potessi interessare. Come vedete qua abbiamo questa opzione di join oppure di condizione. Noi facciamo join. Qui possiamo partire dal sample che si trovano già qua dentro oppure andare su all datasets e decidere qua quali ci interessano. Allora a noi interessano i returns. Diciamo accetta. E qua ci chiederà come vogliamo unire la nostra tabella dei ritorni. In questo caso abbiamo l'order ID e infatti Trifacta ce lo riconosce già, ci consiglia, ci suggerisce di unire gli ordini. In questo caso il match fa il 3% perché solo il 3% sono stati ritornati. Noi potremmo fare anche un hyper join in modo da prenderci tutto. Quindi anche se solo il 3% fa match, noi ce ne andiamo a prendere anche tutti gli altri che saranno nulli e che quindi non avranno avuto un ritorno. Facciamo next. Qui ci dà la nostra colonna nuova insieme a tutte quelle vecchie. La riconosciamo perché ha questo colore rispetto a questo. e facciamo Ravine. Ci può andare bene, quindi facciamo Add to Resit. Adesso state di un'indagine dal flusso questa operazione. Adesso se volessimo fare altre opzioni potremmo continuare qua a dirgli cosa vogliamo fare. Ma noi invece facciamo Run per vedere un attimo come si mostra il nostro flusso. Qui abbiamo tutte le opzioni di Run e di Output che vedremo più specificatamente nel nuovo video. Nel frattempo faccio Run. Perfetto. In questo modo possiamo vedere quanti le nostre output e la possibilità di pubblicare o di trasformarlo all'interno di Photon. In questo momento sta ancora lavorando. In questo momento sta ancora lavorando. Qui inoltre abbiamo la possibilità di vedere oltre alla Overview anche le destinazioni di Output. Il profilo stesso nostro. Diciamo legato al dataset che abbiamo creato. Il traffico delle dipendenze che era quello che dovevo fare mostrare fino all'inizio. Ossia il modo in cui abbiamo unito il nostro dataset iniziale. Il dataset dei torni. Qua ci mostra il joint factor e infine l'output. E infine le data source che abbiamo aggiunto. Inoltre potremmo anche scaricare il profilo che abbiamo visto prima con PDF e JSON nel caso ci venisse chiesto di mostrare qualche dato più approfondito. Torniamo alla Overview e come possiamo vedere il lavoro è stato completato. Quindi se noi adesso tornassimo sui nostri flussi vedete che è stato creato il nostro bel flusso nuovo. Con questo io vi ringrazio per oggi è tutto ci vediamo nel nostro prossimo video su qualche info più specifica sull'output e magari sulle connessioni al server di HeadShift per esempio che può essere molto utile. Grazie a tutti e arrivederci.